ciao grandissimi sono indo ragazzi sono oggi a portare questo nuovo video in questo video ragazzi vi mostrerò come ottenere gli abiti di Ezio Auditore ragazzi un video molto semplice dovete andare intanto nel vostro menu e andare sull'ubisoft club dove sono appena andato io qui ragazzi potrete ottenere gli abiti di Ezio Auditore e tantissime altre ricompense usando anche i vostri Ubisoft Point però in questo caso gli abiti di Ezio Auditore non sono per niente da utilizzare, non dovremmo utilizzare i nostri Ubisoft Point o comunque spendere denaro ok arriviamo qua, praticamente abbiamo questa schermata con i nostri progress Assassin's Creed sindichette sotto il nostro universo Assassin's Creed vedete le scritte qua, andate nel nostro universo Assassin's Creed ragazzi qua vedete tutto, quello che tutti i vostri giochi avete usato sul vostro profilo così io ragazzi questi giochi qua sono giochi vecchi che ho sul vecchio profilo quindi non ho potuto ancora, devo rigiocarli diciamo guardate lì sotto, in basso a sinistra c'è scritto pacchetto ricompensa iniziato, andate lì e cliccate sopra ok, guardate qua, pacchetto ricompensa iniziato, skin case blocca i abiti di Ezio per Jacob e aumenta stabilmente del 10% la valuta di gioco ottenuta ottieni gratis, ricompensa ottenuta facilmente ragazzi, subito così, molto facile poi ragazzi altre cose interessanti che vi farò vedere prima di usare gli abiti di Ezio in gioco vi faccio vedere altre varie ricompense che potete ottenere su Syndicate utilizzando o i vostri crediti, diciamo Ubisoft Point oppure gratis, gratuitamente ok ragazzi ed eccoci qua infatti, vedete quello che abbiamo sbloccato noi, ho sbloccato tutte queste vi fa adesso, è possibile ottenere anche il pacchetto ricompensa assassino sblocca gli abiti di Elise e di Aveline per Eevee, molto interessante otteniamo anche gli abiti di Elise e di Aveline quindi poi ve lo farò vedere ovviamente anche in gaming poi, crediti Elix 200, crediti Elix gratis, li possiamo ottenere molto bene poi questa qua con l'attrezzatura Blue Ubisoft, ragazzi io li spendo questi io comprerò tutto quel che avete in questa schermata per il semplice fatto che ho 580 Ubisoft Points e tanto mi interessa avere tutte queste ricompense qua perché le reputo molto carini e interessanti con l'attrezzatura Foglio di Tè prendiamo anche questa, ragazzi le faccio vedere tutte come tanto non costano molto poi abbiamo quella, mantello cintura Eevee Jacob cintura d'assassino nobile più difesa di Jacob, mantello laccio del sicario, più fortività per Eevee e poi ragazzi vi faccio vedere il bastone animato indiano che io bastone animato e ne sono un grande fan, comunque sembra molto carino e bello e poi ragazzi l'ultima c'è la colono sonora senza scheda Syndicate selezioni tra c'è la colono sonora in formato digitale che io vi scarico ragazzi e ottengo pure questa ok abbiamo preso tutti questi e adesso ritorniamo al gioco ragazzi e vi faccio vedere un po' gli abiti e tutto ok ragazzi eccoci qua, eccoci qua con i vestiti di Ezio che possiamo avere possiamo anche potenziarli ma attualmente non abbiamo soldi per potenziarli eccoci qua i vestiti di Ezio, li clicchiamo e adesso andiamo un attimo in giro con i vestiti di Ezio Auditore da Firenze, eccoci qua, veramente bellissimi, guarda ragazzi stupendi davvero guardate qua ci facciamo adesso due passi con questi, andiamo a uccidere questi criminali ok veramente ragazzi davvero fighi, davvero molto belli questi abiti di Ezio Auditore molto bene, adesso ragazzi cambiamo personaggio e andiamo con, passiamo a Ivy e vi faccio vedere gli abiti di Elise, tanto questi qua sono quelli di Shaoyun adesso vi faccio vedere con Ivy gli abiti di, scusate tanto su abilità, errore mai my error, andiamo in inventario, vestiti, eccoli qua abbiamo per Ivy, abbiamo comunque quelli a tenuta militare ok, io attualmente avevo quelli di Shaoyun, poi ragazzi ci sono quelli a tenuta oscura abbiamo guardate qua gli abiti di Aveline e di Elise della Serra, quindi guardate qua, bellissimi gli abiti quello di Elise è molto più bello secondo me, quindi andiamo a prendere l'abito di Elise ci facciamo due passi, questo è l'abito di Elise, potenzia il cucre diciamo guardate qua, due passi con l'abito di Elise, veramente molto bello, guardate qua molto bello come abito, porto anche Ivy, molto bella e poi ragazzi proviamo un attimo anche l'ultimo abito che è quello a sua volta di la nostra Aveline del Grand Prix eccoci qua con l'abito di Aveline forse a me sinceramente non piace moltissimo, preferisco molto quello di Elise comunque eccoci qua ragazzi con tutti gli abiti di Elise, Aveline e di Ezio di Torre da Firenze ok ragazzi, per questo video è tutto vi ricordo soprattutto, prima di concludere, mi sono dimenticato di farvelo vedere di che ci sono anche gli abiti per quanto riguarda Edward Kenway ma credo che questo lo sappiate già per quanto riguarda Edward Kenway per il nostro Jacob guardate qua, quelle che avevo su adesso, veramente molto belle anche questi abiti di Edward Kenway ok ragazzi, per questo video direi che è tutto noi ci vediamo presto con un prossimo video ciao ciao